In provincia di Perugia oggi 15 maggio 2021 quasi alle ore 10 del mattino c'è stato un terremoto una magnitudo di 3.7 ma compresa scusatemi tra 3.7 e 4.2 nell'Eugubino, nel Perugino ma anche nell'Assisano quindi in provincia di Assisi il terremoto in qualche modo si è fatto ben percepire l'epicentro è stato individuato precisamente nella zona di Gubbio, ovviamente ci troviamo in regione Umbria gli stessi piccoli del fuoco hanno confermato che non ci sono però allarmi per quanto riguarda la scossa di terremoto che c'è stata proprio in Umbria, quindi diciamo che non ci sono stati danni però ovviamente la popolazione non dico tutti ma buona parte della popolazione si è riversata in strada proprio perché ha percepito distintamente il terremoto in questione. Oggi intorno alle 10 circa del mattino 15 maggio 2021 iscrivetevi al canale Narratore Italiano, commentate, un saluto le caro, al prossimo video e buona giornata a voi